Vacanze terminate per la prima squadra dell'Amen Scuola Baschettarezzo che lunedì tornerà a sudare al Palace Porta Estra per lavorare in vista della nuova stagione di Serie C Gold. Dopo la promozione ottenuta nello scorso campionato in panchina è arrivato Massimiliano Milli che sarà coadiuvato dai confermati Mirko Pasquinuzzi, Stefano Liberto e Simone Marraccini che si occuperà della preparazione della squadra. I nuovi acquisti Rodríguez, De Bartolo e Tenev sono arrivati da qualche giorno in città per facilitare il loro inserimento in squadra. Gli altri quattro senior della Rosa Maranto sono i confermati Castelli, Cutini, Gionmetti e Provenzal. A loro fianco tanti giovani del vivaio a Maranto che saranno visionati dallo staff tecnico nei primi giorni di lavoro per prepararne il progressivo inserimento in squadra. Il precampionato dell'Amen inizia con la gara di Coppa Toscana sabato 31 agosto alle 18 al Palace Porta Estra contro Valdisieve. Poi oltre agli impegni ufficiali tanti amichevoli tra cui spicca quella prestigiosa contro Montecatini.